Siamo nel 56. Come sapete il protagonista del film è Egno, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Perché in Italia c'erano i comunisti? I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. Ho fatto tutto per produrre questo film. È il progetto più importante della mia vita. Deve essere sempre lo stesso, sennò poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non va bene così, è tutto diverso. Emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo? Non aspettiamo suo figlio? Non ho film. Da anni mi aspetto che Giovanni cambi. Ora ha iniziato a girare il nuovo film. Top! Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Questo è un film d'amore! Azione! Eh no no, scusate! La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Voglio lasciare Giovanni ma non ne sono capace, non ci riesco. Non è mai il momento. Il nostro rendezvous è confermato su Netflix. Netflix! I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Comunque c'è un grosso problema. In questo film manca un momento WTF. WTF? WTF? Musica! Giovanni stare con te è diventato sempre più difficile. Mi chiamo Martin Scorsese. No, penso che ci dovremmo separare. Pierre, che succede? Ciao a tutti! La storia non si fa con i sé. E chi la dà? Io invece la voglio fare proprio con i sé. La storia non si fa con i sé. La storia non si fa con i sé.